Il grande beach tennis fa tappa Torino alle dune per una finalissima del Open 2022 che vedrà in campo sulla sabbia bianca piemontese, quattro grandi protagonisti. Un saluto da Davide Chicarella, appuntamento per una due giorni a tutto sport in terra torinese. Nella splendida location delle dune di Beinasco, frazione Borgaretto, osserveremo la finalissima del beach tennis maschile. Inizia la finalissima delle dune, torneo di beach tennis, primo Open 2022, 750 euro di Montepremi. Lorenzo Poli alla battuta. E la dea bendata inizia con una mano sulla spalla di Lory, 15-0 con l'ace sporco, la palla tocca al nastro e finisce nei pressi dell'incrocio delle righe. e la mette giù di prepotenza Marco Faccini, 3 a 1. 3 a 2, due punti consecutivi con il servizio di Poli, di carattere per riaprire il long tie break. Si gira 3 a 2. Ricordiamo che in compagnia del regista Nino Tempera ci ritroveremo domani pomeriggio per la finale dell'Open da 500 euro di padel maschile che avrà la sua conclusione intorno alle 16 domattina alle semifinali, alle dune Beach Club e nel pomeriggio la finalissima sempre con la regia di qualità di Nino Tempera. Due battute ora per Peter Campedelli. Fuori, fuori, fuori. La palla è buona. Con sportività Poli lo riconosce immediatamente. 4 a 2. Gran risposta di Lorenzo. E poi butta giù una vera e propria sassata catenata di Peter Campedelli. 5 a 2. Grazie. Ora due turni di servizio fondamentali per Marco Fraccini che dovrà far andare il bracione. Chissà se cercherà la risposta di dritto di Montanari. Così è. 5 a 3. Servizio vincente. Bravo il Jag. A chiudere con lo smash. Altro mini break di vantaggio. Si gira 6 a 3 in favore della testi di serie numero 2. 4 punti dalla conquista del titolo. Questa, per l'altro dimostra. Questa, per l'altro, è una lettera. Qui va rimbio alla testa di stampare. Qui va via il mercato di serve. La testa di nome è stata un bellissimo. Questa, per l'altro, è una scena scena. Non c'è una scena scena. Due battute a disposizione di Marco Montanari. In dubbio fino all'ultimo se la palla fosse buona o no, ha deciso poi di spingere una sorta di bilanciere poli. La palla finisce sul fondo, siamo 7-3 per Montanari Campedelli. Vado ad agganciare in cielo la palla Campedelli, non riesce poi la difesa poli, 8-3 a 2 punti dal match Campedelli-Montanari che sembrano in grande fiducia in questo finale di match. Finisce fuori il servizio incrociato di poli, 9-3, arrivano le palle incontro in favore di Campedelli-Montanari che ricordiamo anche insieme hanno vinto il long tie-break. Con lo smash centrale Peter Campedelli chiude la sfida, una bellissima finale alle Dune Beach Club. Montanari Campedelli conquistano l'open di Torino. Il punteggio finale 5-7, 6-4, 10-3 al long tie-break. Grazie a Nino Temper in regia, un saluto da Davide Chicarella. Chiude con lo smash e rigarà il capolavoro. Mani, mani, set, set, set.